Questo video vuole essere una sfida all'Isis. L'Isis è il cosiddetto califato che è perseguita le donne. Addirittura nei loro paesi non possono neanche mostrare il volto, addirittura neanche gli occhi, quindi peggio che tra i salafiti. In questo video vorrei dire che, come già ho detto in altri video, quelli dell'Isis sono tra i miscredenti. Che significa? Se noi guardiamo la Sura 2, versetto 34, dove parla di Iblis, dice chiaramente E quando dicemmo agli angeli, prosternatevi ad Adamo, tutti si prosternarono, accetto Iblis che rifiutò per orgoglio e fu tra i miscredenti. Quindi, quelli dell'Isis, a differenza della scia, sono dei miscredenti. Quindi, lo dico apertamente, quello dell'Isis non è Islam, è solo terrore e morte. Con questo è tutto, vi saluto.